Mi sono dovuto prendere un po' di tempo in più ragazzacci, ma mai che hoci qua, dovevo smalti la boria e ancora sono molto inquieto, ma guardiamo avanti, anzi in realtà mi tocca ritornare ancora a ieri, stavolta per parlare dell'Atalanta, sontuosa sconfitta contro il Liverpool. Ci può anche stare la sconfitta dei danni del Liverpool, ma non per come poi è maturata. Io dall'Atalanta ormai mi aspetto sempre di più e questa, come ho detto per l'Inter, è una regressione secondo me, perché porta alla luce degli errori già visti nella scorsa stagione, magari contro il Manchester, dove l'Atalanta ne prese anche in quella circostanza 5. Allora, io adoro, io amo la proposta di calcio che Gasperini adotta per la sua Atalanta, è in dubbio, lo sapete, mi conoscete, assolutamente. Ma c'è un rovescio della medaglia, ecco, c'è un rovescio della medaglia, o comunque ci sono delle situazioni che vanno analizzate. Quando puoi effettuare quel gioco? Quando hai più benzina dell'avversario, cioè corri di più e corri meglio, o corri come al pari del tuo avversario, è se il tuo avversario è più debole, se già il tuo avversario è più forte e poi loro corrono anche più di te, è finita, è finita, devi solo raccogliere ogni volta il pallone in rete. E in parte così è stato, perché? Perché? Cioè ci vuole anche umiltà, ecco, quella che è input e ritorno sempre all'Inter al Conte. Ci vuole anche umiltà, ci vuole anche e soprattutto umiltà. Se hai di fronte il Liverpool, non puoi concedere l'uno contro uno, non puoi concedere l'uno contro uno, non puoi accettarlo, non lo puoi accettare. Come minimo devi avere sempre una copertura pronta, devi sempre andare a raddoppiare, invece no, invece no. Sul primo gol, verticalizzazione, è superato tranquillamente Palomino dall'eroe della serata, là, che tra l'altro non ricordo come si chiama. Ragazzo favoloso, per carità di Dio, ma troppo facile, difesa troppo facilmente imburrata, cioè veramente penetrata come se fosse burro, come se fosse burro. Secondo gol, anche lì, passaggio alto, lungo, al giocatore, sempre lo stesso. Come si chiama? Devo proprio vedere come si chiama, scusate, perché, cazzo l'oro, è stato l'eroe della serata, non sai nemmeno come cazzo si chiama, Neschi. Scusate, che è un periodo proprio... come si chiama? Ah, Iota, Iota, Diego Iota, se non sbaglio, Diego Iota. Diogo, Diogo, Diogo Iota. Seconda situazione, secondo gol, passaggio lungo, alto, il solo Atebur, non c'è una... Santa Vergine, non si può fare mai nulla, mai nulla, mai nulla in questa casa dannatissima. Diogo Iota, lì ci deve essere raddoppio, non gli puoi concedere l'uno contro uno. Poi c'è da dire che a De Burrieri non ci stava proprio, ecco, non era proprio in condizione di giocare, ma si sapeva, perché infatti non doveva giocare, io ho ascoltato un po' il prepartita, fino all'ultimo è stato in forse, perché poi si è fatto imburrare anche nel quinto gol, se non sbaglio, o quarto. Cioè, giochi contro la squadra che verticalizza di più e che verticalizza meglio. Veramente, il Liverpool di Klopp è una squadra che verticalizza all'infinito, e lo fa con una forza, con una bravura, con una precisione, che ti fa male, che ti fa male per davvero. Salah, se gli lasci tanto spazio, quello 50 metri di campo e ti va in porta. Di che parliamo? E no, è bello che, nonostante ci ha subito il primo gol, stesso episodio anche negli ultimi minuti, dove Salah poteva ancora farne un altro allo stesso modo. Ecco, l'Atalanta deve, no sbagliare, sì, deve anche sbagliare, perché si può e si deve sbagliare, ma deve imparare dagli errori. Se non impari dagli errori non va bene. E qui parlo di Gasp, perché Gasp che l'ha impostato in questo modo, sapeva la condizione dei propri giocatori, ripeto, la proposta va bene, perché poi anche ieri si è perso 5-0, ma la proposta può andare anche bene. Muriel ha avuto due occasioni nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo visto un grandissimo Zapata che ha colpito il palo, ha avuto un'occasione di testa da calcio d'angolo, e altre situazioni molto, molto valide e pericolose, però tu hai lasciato troppi spazi a Liverpool e il Liverpool che va sempre verticale ti fa nero, ti fa nero, ti fa nero. Quindi, ecco, io adoro, e chiudo, chiudo, adoro gli allenatori che propongono un calcio diverso, rivoluzionario, che se la giocano, ci sta, però attenzione, devi anche andare a valutare i tuoi avversari, devi anche plasmarti e variare la tua idea di calcio in base all'avversario. Gli allenatori che cambiano sistema, che cambiano mentalità in base all'avversario, per me quelli saranno sempre, sempre i migliori, sempre, sempre, sempre. Perché non è che devi andare, devi là andare a fare per forza il tuo calcio. Ci sono alcune volte che puoi farlo, il tuo calcio devi farlo, perché il tuo calcio paga ed è un bel calcio, ma ci sono altre volte in cui devi essere anche umile e capire che forse devi fare un passetto in indietro. Devo provare a vedere anche altre soluzioni, altri sistemi. Come Conte, chiudo, veramente, chiudo. Conte dice, no, ma noi andiamo a imporre il nostro calcio ovunque, è una cosa positiva. Sì, vai a imporre il tuo calcio ovunque, però subisci il terzo gol da contropiede, da contropiede, da contropiede il terzo gol. Cioè, e quindi, che mi serve che tu vai a imporre il tuo calcio se poi quel tuo calcio è quello che più ti danneggia? Eh no, devi proporlo quando c'è da proporlo, il tuo calcio. Vabbè, è andato così, speriamo, speriamo vivamente che tutte le italiane si rialzino, e in questo caso direi Inter e Atalanta, speriamo bene. Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Daneschi. Ciao.